Siamo qui questa sera per approfondire il nostro viaggio al mercato della terra e della biodiversità di San Giorgio Canavese e siamo qui con l'onorevole Francesca Bonomo. Il valore dei prodotti per il territorio? Sicuramente è un valore molto importante perché intanto comunque qua si valorizza veramente il prodotto tradizionale nella sua peculiarità, con la sua biodiversità e questo serve sia per valorizzare la tradizione locale ma anche per farsi conoscere negli altri territori. Poi si organizza questa fiera oramai da diversi anni dove si coinvolgono e si fa arrivare a San Giorgio anche produttori da tutta Italia quindi anche questo aiuta veramente ad integrare e a creare questo valore veramente forte e importante per il territorio. L'importanza della tutela e l'importanza dell'agricoltura? Questa è un'altra importanza veramente per il territorio proprio perché appunto l'agricoltura tradizionale è a origine proprio anche sul nostro territorio quindi cercare di valorizzarne appunto le peculiarità è molto importante per il territorio stesso e diciamo noi anche come attività governative in questi anni abbiamo cercato anche di portare avanti una serie di riforme anche per valorizzare proprio la tutela agricola e il prodotto appunto made in Italy e quindi su questo siamo diciamo molto contenti anche di poter continuare in questo lavoro di valorizzazione di prodotti locali. Ringraziamo l'onorevole Francesca Bonomo e continuate a seguirci nel nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra e della biodiversità. Ringraziamo l'onorevole Francesca Bonomo Ringraziamo l'onorevole Francesca Bonomo